carissimi amici del canale telegram dentro la notizia ci troviamo forse di fronte alla più grande frode scientifica del secolo secondo uno studio scientifico è proprio così una frode colossale perpetrata ai danni dei popoli di tutto il mondo non ricordo in questo secolo nulla di paragonabile anzi dovrei andare indietro millenni per trovare un evento simile che ha coinvolto tutta la terra abitata in effetti c'è qualche somiglianza con il serpente che ha ingannato la prima donna eva su una questione vitale dietro il serpente sappiamo chi si nascondeva e sappiamo pure che dietro il serpente di big pharma si nasconde lo stesso ingannatore ma come dicevano le nostre nonne le bugie hanno le gambe corte tenetevi forte che smascheriamo la frode del serpente potete vedere il video integrale sul nostro canale telegram iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su telegram e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin